Ma perché deve venire che dobbiamo uscire e questo è l'anno giusto per ritrovarci, abbracciarci, cantare, suonare e farci gli auguri sperando veramente che vada tutto meglio. Quindi ci sono un sacco di motivi, mica uno solo. Una proposta nuova, particolare, innovativa e poi il primo Capodanno mi ci dobbiamo abbracciare da voto, quindi venite tutti quanti. Da Nisi da Ponticelli passando per la Galleria Umberto I, il Capodanno a Napoli 2022 organizzato dal Comune propone un calendario di spettacoli che condurranno verso l'anno nuovo. Si comincia giovedì 29 dicembre con un concerto in memoria di Pino Daniele. È un evento che facciamo sotto la Galleria Umberto I, era un progetto che già avevamo un po' nel cassetto con mio padre, con tanti giovani, con tanti ragazzi che studiano in vari conservatori italiani e che reinterpreteranno i pezzi di mio padre. Io faccio il concerto il giorno 30 dicembre mattina a Nisida, al carcere minorile, e portare la musica nei luoghi di sofferenza in una giornata così importante, prima del Capodanno, è fondamentale. Quindi vi aspettiamo tutti. Il Capodanno è stato presentato questa mattina al Maschio Angioino con alcuni dei protagonisti delle iniziative. La sera del 31 dicembre in piazza Plebiscito ci sarà il Peppi Night Show, con Peppe Iodice, Belen Rodriguez, Lina Sastri, Peppino Di Capri, Biagio Izzo e tanti altri ospiti. Dopo la mezzanotte, concerto di Lucariello e Franco Ricciardi, introdotto dal disc jockey Daniele Decibel Bellini. Perché la gente deve venire? Mi pare che mi hai chiesto che deve venire a vedere. Allora io sinceramente a Capodanno c'ho sempre quel velo di malinconia, a me è proprio una cosa per capo. Devono venire perché dobbiamo fare la festa, ci siamo tutti noi del Peppi Night e un sacco di amici che arrivano a fare i scemi insieme a noi. Ragazzi venite il 31 dicembre a piazza del Plebiscito perché dobbiamo aprire l'anno sorridendo, ridendo e in modo così, felice. Capodanno di gioia, di felicità, saremo tutti insieme, bella musica, bella gente, venite vi aspetto. Perché venire al concerto al centro di Napoli? Soprattutto per dare dimostrazione che il nostro spirito vitale e vivo c'è e ci piace festeggiarlo con la nostra città. Una programmazione culturale vera e propria che trova nel Capodanno un pretesto per offrire alla città in continuazione con quello che è stato fatto finora, quindi penso al maggio, penso all'estate, penso all'autunno che abbiamo organizzato, oltre al grande bando per Natale, un'offerta culturale continua. C'è un bando interessantissimo per tutti quanti voi perché potete lavorare con noi quella notte del 31 sul lungomare di Napoli e poi e poi e poi ancora ancora. Io sono Stè e mi esibirò il 30, piazza Plebiscito, sarà un R&B napoletano molto armonioso e napoletano un po' particolare. Perché restare a casa dopo due anni che siamo stati a casa a guardare i film, Netflix, il Play della Cupertina? Venite perché vi aspettano delle sorprese. Io non faccio anticipazioni ma sarà una sorpresa così grande. Io personalmente porterò un nuovo singolo che è una versione di Baggin in napoletano che farò per la prima volta dal vivo, oltre alle canzoni di Comur e a tutte le altre produzioni che abbiamo fatto in questi anni. Quindi va spetta. Credo che sia un momento fantastico quello di incontrarci, di fare musica, di festeggiare. L'unione, l'aggregazione, quello che la musica serve, l'aggregazione, l'incontro con l'altro. Sono felicissimo di farlo proprio poi a casa mia, con la mia gente, nella mia città. Partiamo il 29 con Pino Daniele. Nel nome di Pino Daniele andiamo avanti il 30 con eventi durante il giorno al carcere di Nisida, in periferia. La sera avremo un grande concerto di Ircomi preceduto da tutta una serie di artiste donne emergenti bravissime. Il 31 avremo la comicità di Peppe Iodice, ma avremo anche la discoteca sul lungomare, frutto di un contest per giovani DJ napoletani. Avremo anche il basking, avremo insomma una tre giorni di grande festa, di grande gioia, ma tutto all'insegna di Città della Musica, all'insegna della musica, all'insegna della valorizzazione dei professionisti e della città tutta. Primo capodanno che noi festeggiamo in piazza, dopo anni veramente difficili, lo facciamo veramente con un grande spirito di partecipazione, anche di liberazione da parte di tanti cittadini che vogliono affrontare il nuovo anno con ottimismo e con un spirito nuovo. Ovviamente pensando sempre alle persone che soffrono, a chi è stato colpito dalle tragedie degli ultimi giorni, però oggi abbiamo bisogno anche di speranza, di futuro, di ottimismo e questo capodanno è un capodanno di rinascita.